E oggi sono qui a questo bel evento per parlare del meccanismo dei certificati bianchi. Certificati bianchi che è il principale strumento di incentivazione per l'efficienza energetica nel nostro paese. Questo meccanismo ha vissuto sin dei primi anni una fase molto florida. In questi ultimi anni invece sta vivendo un po' una fase di crisi. Quindi vedremo un po' quali sono i fattori che hanno portato a questa crisi e cercheremo di capire come risollevare questo meccanismo. Presenteremo quindi le ultime novità del meccanismo dei certificati bianchi dettati dai decreti del 2017 e 2018. Certificati bianchi che è il principale strumento di incentivazione in vigore nel nostro paese e che necessita giocoforza di essere risollevato per poter centrare gli obiettivi nazionali e comunitari in capo al nostro paese.